Se le mie telespettatrici o i miei telespettatori vogliono sapere qualcosa, me lo dicono che io, in cara Franca, della prossima settimana leggerò e enuncerò le loro... Era il volto storico di Telegenova, Franca Brignola, torinese di nascita, ma genovese da sempre. Si è spenta ieri, ad 82 anni, personaggio fuori dagli schemi, grande amante degli animali, era diventata in breve popolare nel piccolo schermo a livello locale, soprattutto fra gli anziani, che lei amava, al quale dedicava molte rubriche televisive dedicate proprio alla terza età. Co-fondatrice, insieme alla loro patron di Telegenova, Salvatore Cingari, ha legato la sua immagine a questa emittente storica, seconda in Italia come anno di inizio trasmissioni dopo Telebiella. Agli inizi aveva anche insegnato, svolgendo la professione di maestra. Poi le collaborazioni giornalistiche con il Corriere Mercantile e la Gazzetta del Lunedì. Con Franca Brignola si spegne un pezzo di quell'emittenza televisiva locale che non esiste più. Tutta la redazione di Telegenova, con a capo l'editore Sergio Barello, porge le più sentite condoglianze a tutti i parenti della brava conduttrice genovese scomparsa. I funerali si svolgeranno sabato prossimo, 21 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di Via San Pio X. Leggerò e enuncerò le loro... Grazie.